Ciao, qui Danilo Maruca di Dritto alla Meta.it e in questa puntata del podcast dedicato alla felicità ti voglio spiegare cosa fare esattamente per aumentare la qualità della tua vita. Per la maggior parte delle persone la felicità è una destinazione, un qualcosa di indefinito da raggiungere in un ipotetico futuro. Quasi nessuno imposta la sua ricerca della felicità nel momento presente, cercando di essere felice proprio adesso. Infatti puoi essere felice indipendentemente dalle difficoltà che stai vivendo, dal lavoro che svolgi, dagli amici che hai o dagli obiettivi che hai raggiunto in passato, ma per riuscirci dovrai applicare determinate strategie che sto per condividere con te. Il mio consiglio è quello di scegliere una di queste tre azioni e di applicarla subito e con costanza per le prossime settimane, fino a farla diventare un'abitudine. Successivamente dovrai scegliere un'altra azione e fare la stessa cosa. In questo modo migliorerai la qualità della tua vita in poco tempo. Partiamo dalla strategia numero uno. Vivi una vita in cui ti riconosci. La maggior parte delle persone che si ripetono spesso vorrei essere felice devono tenere in considerazione che più si vive una vita in cui ci si riconosce totalmente e più si può raggiungere serenità, beatitudine e gioia. Frequentare una facoltà universitaria che non ci piace, fare un lavoro che non c'entusiasma minimamente, sono solo alcuni dei modi principali con i quali le persone si legano all'infelicità. Seguire ciò che dicono familiari, parenti e amici non sempre si avvicina ad una vita serena perché gli altri non possono conoscere esattamente ciò che ci appassiona veramente. Devi seguire i tuoi obiettivi e vivere una vita che sia fedele alle tue aspirazioni più grandi e non a quelle delle altre persone. Ci sono cose che ami fare, posti che ti piace frequentare e persone con le quali stai davvero bene e tutto questo ti aiuta ad essere più sereno. Se invece non segui i tuoi sogni ma accetti che a te leggere la tua vita sia l'opinione di altre persone farai più difficoltà a vivere nella gioia. Le persone più felici sono quelle che hanno trasformato la loro passione più grande nel loro mestiere. Non sono persone diverse da te, sono persone normali che hanno trovato il coraggio di vivere una vita in cui si riconoscono e non accettano nulla di meno. Probabilmente la principale causa che crea sofferenze e che porta le persone a dirsi spesso voglio essere felice ma non ci riesco come mai è che non vivono seguendo le loro aspirazioni più elevate. Puoi vivere tutta la tua vita nel modo in cui gli altri si aspettano che tu faccia oppure puoi vivere seguendo le tue inclinazioni più profonde. Ecco due modi per riuscirci. Punto primo, individua le tre attività che più di tutte ti piace svolgere. Punto secondo, dedicargli il più tempo possibile senza badare a ciò che pensano gli altri. Svolgere le attività che ci appassionano di più ci permette di essere più felici. Dopo aver individuato le tre attività che davvero ami svolgere e prenditi tutto il tempo che ti serve per trovarle cerca di creare un progetto per ognuna di queste attività. Se per esempio ti sei reso conto che ami scrivere ma per via del lavoro e degli impegni che hai non riesci più a scrivere da molto tempo puoi porti l'obiettivo di scrivere un libro di 100 pagine. Se ami dipingere puoi porti l'obiettivo di dedicare un'ora ogni sera a questa attività. Fare più spesso le attività che ami è il primo passo per vivere una vita che sia fedele a ciò che davvero vuoi. Nel libro Vorrei averlo fatto, Brony Ware racconta la sua esperienza quando dava assistenza ai malati terminali. Il rimpianto più comune nelle persone in punto di morte è il seguente. Vorrei aver avuto il coraggio di vivere una vita come volevo io, non come gli altri si aspettavano da me. Ma perché aspettare di trovarsi in punto di morte per vivere la vita che realmente vogliamo? Perché non iniziare oggi a dedicare più tempo a ciò che davvero amiamo fare? La risposta è che abbiamo paura, paura delle opinioni degli altri e di ciò che potrebbero dire di noi. Tuttavia per essere felici dobbiamo avere il coraggio di dare la priorità ai nostri sogni. Per non aver rimpianti in futuro dobbiamo assolutamente vivere al massimo il momento presente. Strategia numero 2. Agisci come se già fossi felice. Uno dei metodi più rapidi per migliorare la propria felicità consiste nel parlare, nel pensare e nell'agire come se già fossimo felici. Spesso le persone si domandano vorrei essere felice ma come posso fare per diventarlo? La risposta è semplice. Fingi di esserlo. Chiediti cosa penserei di me e della mia vita se fossi felice? Cosa farei di diverso se fossi una persona davvero felice? Di cosa parlerei durante il giorno se fossi davvero sereno? Con quanta sicurezza mi muoverei se fossi gioioso e sorridente per tutta la giornata? Quanta importanza darei alle piccole imperfezioni, alle piccole mancanze di gentilezza da parte delle altre persone, ai piccoli problemi o contrattempi quotidiani se nel complesso fossi pienamente felice e soddisfatto della mia vita? Queste domande ti aiutano a capire cosa faresti di diverso se fossi realmente felice e il passo successivo consiste nel comportarti come se già lo fossi. Appena ti alzi al mattino fai un bel sorriso, pensa come sarà straordinaria la tua giornata e focalizzati sul provare gratitudine per tutto ciò che hai. Durante la giornata concentrati sull'essere il più felice possibile passa del tempo a svolgere le attività che più ti piacciono in compagnia delle persone che ami. Per diventare più felice bisogna per prima cosa scegliere di volerlo essere davvero. Questa decisione va presa con fermezza e più bisogna agire di conseguenza. Naturalmente è una scelta che ha delle conseguenze, solo positive, e le più comuni sono che inizierai ad allontanare dalla tua vita le persone che si lamentano costantemente o che ti buttano giù. Ti sforzerai di cambiare le tue abitudini, cercherai di migliorare la qualità della tua vita, toglierai del tempo a tutte le attività che non ti fanno stare bene. Bisogna scegliere di essere felice sostituendo il voglio essere felice con il sono felice adesso e poi comportarsi di conseguenza. Si tratta è vero di una piccola finzione che però il cervello non riconosce in quanto se agisci da persona felice diventi automaticamente più felice. Se fai pensieri di una persona allegra diventi automaticamente più allegro. Naturalmente vale anche il contrario, quindi se fai pensieri di una persona triste diventerai più infelice. L'unica difficoltà che ci può essere nell'applicare questo metodo consiste nel sentirsi un po' a disagio inizialmente perché si sa che si sta fingendo. Tuttavia se ti impegnerai davvero e ti impegnerai soprattutto ad agire come se già fossi felice, preso da recitare la tua parte ti assicuro che ti dimenticherai che era solo un trucco e inizierai effettivamente a mettere in atto le azioni che davvero migliorano la qualità della tua vita. La terza e ultima strategia è sii propositivo. In fin dei conti la domanda che devi porti più spesso è come posso migliorare questa determinata area della mia vita? Questa semplice domanda è in grado di generare un flusso continuo di cambiamenti positivi e graduali. Bisogna apporsela il più spesso possibile ed avere un atteggiamento mentale rivolto sempre alla propria crescita personale. Se nelle tue priorità fai rientrare il tuo miglioramento continuo diventerai senz'altro molto più felice. Un altro concetto importante legato al cambiamento e alla crescita personale è quello di affrontare tutto ciò che in passato ti ha limitato e che oggi potrebbe non limitarti più. Riguardo a questo è stato fatto un esperimento molto interessante di cui voglio parlarti. Due scienziati misero un divisorio di vetro tra due pesci, uno dei quali dava la caccia all'altro. All'inizio il predatore batteva ripetutamente contro il vetro ma alla fine rinunciò. Si abituò presto alla nuova situazione e capì che il suo spazio era stato limitato. Dopo un certo periodo di tempo lo sperimentatore tolse il divisorio ma i pesci continuarono a nuotare placidamente nelle loro rispettive sezioni. Come per i pesci anche per l'uomo vale lo stesso discorso. La nostra natura di essere abitudinari ci condiziona profondamente. Di tanto in tanto verifica se ciò che ti limitava in passato ti limita ancora oggi perché potresti scoprire che non è più così e in questo modo puoi trovare la forza di rompere le catene che ti limitano e ti legano all'infelicità. Se il tuo desiderio più grande è quello di essere più felice ti invito a leggere il mio ebook I pilastri della felicità che ti aiuterà ad intraprendere un percorso finalizzato a renderti estremamente più felice. Rispetto agli altri ebook di crescita personale che ti insegnano come raggiungere degli obiettivi, come motivarti o migliorare la tua autostima, questo è specificamente creato per migliorare la qualità della tua vita e soprattutto per renderti più felice. Se sei arrivato fino a questo punto allora voglio darti un piccolo bonus, quindi un'altra strategia che puoi applicare fin da subito e consiste nel trovare qualcuno da aiutare. Se vuoi diventare subito più felice aiuta gli altri, non puoi aiutare qualcuno senza che questo migliori enormemente anche te stesso e il tuo umore. Puoi donare la tua conoscenza, il tuo tempo, il tuo sostegno, i tuoi vecchi vestiti, i tuoi libri, il tuo amore, ma ti assicuro che questa strategia ti renderà estremamente più felice. Quando aiutiamo le altre persone proviamo un profondo benessere, miglioriamo la nostra autostima e ci sentiamo davvero utili. Sforzati ogni giorno di trovare qualche persona da aiutare e questo puoi farlo in molti modi diversi. Puoi ascoltare questa persona, puoi dargli dei consigli, puoi regalargli un libro, puoi prenderti cura di lei, puoi insegnargli qualcosa che questa persona non conosce oppure puoi parlargli gentilmente. Quando ci focalizziamo su rendere la vita degli altri migliore, stiamo automaticamente migliorando anche la nostra. Aiutare gli altri, servire il prossimo è forse il metodo più incisivo per diventare più felici.